Eeeh, perché fitta musica mia a pastiglio Eeeh, non c'è il gioco perché nel momento in cui Stavo per ripartire qua live E' asciatto Quindi non so... Bravissimo, bravissimo E' sicuro bloccato adesso No, abbiamo scoperto che c'è la nave da 3 C'è pure bloccato adesso Infatti non lo vedete Oggi amici, andiamo alla ricerca dei cracker Che non ci sono, però andiamo lo stesso alla ricerca E non ci sono, non esistevano i cracker Ma già ho tutti i miei Ciao Aleria, ciao Artian, ciao Nathan, ciao a tutti Dunque mi ha già ottenuto l'initiative se ho disinstalto io Ah, bene Ho capito Poi capito Sono ottesi blocca Ah no, questa è una betta Allora, quando un gioco funziona Ma questo non è un gioco Questo vuol dire non è un gioco E' una betta E' un gioco un gioco, questo vuol dire non è un gioco creativo Non è il gioco, non è il gioco ufficiale Vabbè, quando... No, 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 fai fine il discorso Beh, quando il gioco funziona bene Devi mettiti le mani nel culo Secondo me Perchè il gioco che era bellissimo nella scorsa beta In questa beta mille problemi E nella scorsa beta non c'era un cazzo Salpa Ma non c'è un cazzo neanche adesso E' uguale entico morendo adesso Eh non è vero, ci sono i personaggi in più adesso E' wow Che siccome sono personaggi in più Non puoi più fare le scale Perchè è tutto diventato una merda Dio mio Come non ci possiamo fare le scale? E' no E poi ti sposti la testa Ti va tutto a scatti di merda Ma è più, capisco che è una beta Ma se tu hai fatto bene la beta Perchè devi ravanarci le mani Se ti funziona bene Capito Te volevi il gioco, volevi la beta Non c'era un cazzo nella beta C'è un cazzo neanche adesso E io non faccio niente Ma si Alex ho la stessa beta Però Non parlo di roba di server Parlo di roba, eh Di gioco proprio Di programmazione Vabbè ma quello poi le metteranno un po' Hanno aggiunto roba Hanno aggiunto Non è che non ha aggiunto roba Hanno aggiunto delle skin di merda Che roba è scusa? Non è vero Hanno aggiunto quello Hanno aggiunto l'italiano Solo un po' Cioè l'italiano non sono L'italiano è solo testivo E non sbinchia la programmazione in italiano Hanno aggiunto Hanno aggiunto i dialoghi con Non sbinchia Non sbinchia la roba 3D Quella roba da Sì Sbinchia i testi Hanno aggiunto Roba in più da prendere Non è vero Hanno aggiunto Sì La gemma Oggi ho preso la gemma Non sbinchia con tutto quanto Ho capito? Non sbinchia nemmeno Hanno aggiunto un botto di roba Non è un botto di roba Non è un botto di roba Hanno aggiunto L'italiano non è un botto di roba Hanno aggiunto isole in più Però sempre le stesse Non è vero Hanno aggiunto le isole Ah beh allora c'è Silvi 94-14 metri Panno di lino Hanno aggiunto la randomizzazione dei personaggi Hanno aggiunto Hanno cambiato l'illuminazione Di varie robe È molto più scuro il gioco adesso Tra l'altro A me non era così scuro Hanno cambiato di robe Ok ci sono Però c'è Come si inizia Sea of Tears C'è E Non vedo i nomi Esprit Compari E magari Dov'è il boccale di birra? Questo qua Dov'è il boccale di birra? D'uccherete a sauce D'uccherete a sauce Ma Come mi devo Aspetta Daniele di X Grazie Daniele Prendi per parlare Ma è attimo Prendi per parlare Prendi per parlare Prendi per parlare Prendi per parlare Non ho fatto così tanto Secondo me Da sbichare così tanta roba Eh ostia T'ho elencato un po' di roba Ma sono robe talmente Deficienti E' una cosa più grande E' la roba delle luci Vai qualcuno prenda la mission Eh non è vero le luci La randomizzazione E basta Eh ma le luci Guarda che sono cambiate le luci Io vedo le luci Sono completate diverse E comunque Non è che è successo chissà cosa T'hai crashato una volta Ma no In generale Anche un giacato Andava male il gioco E' deficiente Cosa c'è? Cosa guardo adesso? Come possiamo andare a live adesso? Cos'è? Coglione di merda Ma la spezzi? No game of the year Non credo Ma buttati in acqua te Buttati Vai via Vai via E poi comunque anche l'altra volta era crashata Quelle volte E non andava Non va male il gioco Ah ma hanno tolto il gioco Non parlavo dei crash Non parlavo dei crash morelli io E poi non mi hai sentito Vedi che non senti? Non ascolti? Cosa scusa? Cosa che non andava male? Mi stavo parlando del crash più Mi stavo parlando del fatto che il gioco sta andando peggio quando ci entro Non è vero? Ma non è vero mai? A me no A me no A me stanno andando fluidissimo Quindi è un problema tuo Mi sa Eh sì Vivo eh Eh sì A noi va bene Ma anche il gatto li trova problemi Scusa con le texture E evidentemente allora c'è un problema con le live Ma a me stanno andando straverso Ma anche a me oggi è andato tutto È andato tutto liscio oggi Cioè c'è un problema Tu buono per parlare che c'è il computer da naso c'hai Gira a TV del gioco ma fa il culo anche Ma che gatto ha lo stesso computer di morro E poi perché streammava allora Eratlos L'unico problema che ho visto io è quello delle scale che Ma no Matthew non è quello che Vabbè andiamo avanti con la live perché sennò questo è come mezzo a spiegare le cose Però adesso le scale le posso fare bene Aspetta Andiamo avanti Mi parto adesso Sì ho ottimizzato bene il gioco Ma dove vai Jesper? No no che fretta hai Jesper si è agitato oggi Sono stanco vorrei Ma tira giù tira su questa ancora cretino Tira su o tira giù? Tira giù Perché? E perché non sappiamo dove deve andare Allora finchè veniamo subito non partiamo Allora le scorte del noioso Grogmiles E finite a Vai mi fai Posare il Il viaggio E poi devo fare i soldi e devo aumentare di livello per prendere quelle più belle Eeeh veramente in quel periodo del mese E' una cosa semplicissima ma io ho detto robe strane Capito? Stai sbraittando da mezz'ora? Eh perchè tu mi dai contro a caso Eh perchè dici le cazzate sempre Non devi vedere dove dobbiamo andare Allora Su Cannon Cove, giace da molto tempo, un forziere pieno di oro e d'argento Dove scusa? Cannon Cove Eh se c'è italiano Dov'è? Cannon Cove, qua sotto C'è anche il mirino nella mappa, vedi? Come si vive nella mappa? Sì c'è il puntino nella mappa per mirare bene dove... Tutto a sud È vero? Che piccolo però Siamo già praticamente a sud, va bene Un po' di più, se tiro giù Tutto a sud Ma è già giù questa, ma che cacchio Sbagliato Ok, siamo a sud Tutto a sud Non c'è il Cracker, sembra di no Aspetta, devele È a posto Ok, che velocità L'hanno fatto vedere com'è Varus Perchè Quelli non sub Ci fanno caccare Pranne alcuni E ha chiesto perchè alcuni non sub vengono cacati mentre altri no Ma non è vero Anzi stavamo leggendo tutti Forse perchè Ho un un mio gioco che si troppi Forse perchè scrivi le puttanate Esatto Ecco che scritte cacate Forse perchè uno scrive una stronzata come quella che hai scritto tu E poi mi girano i coglioni Cosa ne dici Si Mi ruotano No mi ruotano Inverso orario E poi anti-orario Per mettere Fanno l'effetto molla no Ah ok Quando giri qualcosa poi ricorda Sì 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 E come si dice meno E sprendono a infilarti nel cannone K E adesso ho fatto un G-knife ragazzo E quella Cannon Cove E quella a destra Morelli E ostia Di già Può essere Perchè era Subito Sì è quella E ditemi perchè io non vedo niente E un pelo più a destra Ma vai dritto tranquillo Esattamente Oh calmo Rally Quanti soldi facciamo oggi Sì Oggi di soldi Eh stai zitto Oggi di soldi Facciamo 800 Monete d'oro Va bene 800? Si Eh no Era per dire l'Hollobouts Che comunque Se volevo scrivere una caccata Magari non volevo leggiarlo Era per dire Era una caccata perchè non era vero Eh infatti Quello è che Non aveva differenze Bastava a pensarci un attimo E ci pensavi e dicevi Boh magari Non leggono tutti e basta Sì è semplicemente Sì esattamente Wall Street in me ha fatto l'effetto Meno trasparente Sì è meno trasparente È meno Fumitosa Forse sì È più opacca Leggiamente più nella lista Grazie mille Grazie Ming E Pathfinder è morto È morto Pathfinder E io non vedo Non vedo cosa devo fare Mi hanno fatto l'annuncio su Facebook di Pathfinder È morto Andate a leggere Vabbè Ma è gente da Facebook morelli Che era anche su Instagram C'era anche su Instagram C'era anche su Instagram Se non hai Facebook E Instagram C'è dentro Con una mappa Mi dite dove andare A destra E questa qui a destra Eh io non vedo niente Non vuoi aver visto a destra La vedi Adesso vengo qui E guardo Fammi vedere si vede gli E ti scattiamo Morelli Morelli Che ci scantiamo Morelli Con questo allarmismo Forca puttana Guarda Che cazzo Lo scoglio Ma che scoglio Lo devi Lo devi Lo devi Lo devi Che cazzo nel pelo Non è vero E infatti Vabbè Vabbè Sono un grato Sono un grato Dopo il buco io Tirate l'ancora Piuttosto Non c'ho le assi di legno Vado efficiente Mi fai le assi di legno L'ancora L'ancora Sento più lontani Che è ancora niente Perché ti ho ascoltato Sento più lontani Perfetto Si tira così C'era solo questo buco Non è vero Già questo Ma sopra Ah si Tu sotto Cazzo Sono sott'acqua Anch'io Morelli Mi prendono una secchiata d'acqua Sott'acqua Sott'acqua Il problema Quando si va In mare La barca ondeggia E' dura Di fare le scale Perché O ti gratta la testa E Non so No Se non leggiamo leggermente Mi incastro qua Faccio così Mi incastro Esatto Va tutto scattituro Tu mi hai detto Perché ha messo le nuove skill E' secondo me Per quello Che E' molto probabile E' molto probabile Però scusa C'erano anche più i personaggi Le altezze erano quelle comunque Le forme erano quelle Si ma no Non c'erano tutti questi Erano più bassi Eh ma Si Credo di si Il tolkeniano Grazie mille Grazie mille Andiamo Allora Cerca la naufraga Abbandonata Sul Cos'è la naufraga Esiste come parola La naufraga? Pensa come persona morta Abbandonata Ah la naufraga Si Che problemi Eh perché Pensavo più ad una nave naufragata A est Non una persona naufragata Sulle rive a est Ok Sulle rive a est E' dalla parte opposta Che cazzo La naufraga Comunque va leggermente peggio Effettivamente Ah il nome della nave è vero Morelli Non ne ho mai scelto Il nome della nave si può scegliere Non lo sceglie Forse è qua Il generale Il generale era Sotto non c'è un gas Eh mi sa che è qua giù La naufraga Ah qua Credo che sia questo Eeeh Dai perci Poi cosa dice 5 passi Nord Est Nord Est Nord Ah est Nord Ok 5 passi 3 4 5 Perché non ho più la bussola io? Aspetta Ma Ah non si vede più di niente Si vede più di immagini 1 2 3 4 5 Ah ma è qua Morelli E' qui Wow Mi hai baciato comunque Ha Per la nera Si si è molto meglio della porta della bella Madonna Morelli C'è mori a chi? Ma dai Te l'ho fotto eh sprint Rilevando a qualche giorno Ma andiamo prima a fare le cose Non come non Ok Fai cercare le gemme anzi Mentre avevo fatto i crittini In fila la nave Avevo trovato la sabbia che spuntava Viola Chi è? Tuco 15 mesi Tuco Grazie mille Tuco Tuco se la manca Scorza E Gioannetti Va bene Chi è? Tipo 160 people Minchia Per le condizioni piuttose della linea di questa casa Non arrivasse a sentirmi dire cagate va tutto bene Minchia C'è 160p Abbastanza Ho fatto il giro largo per vedere se c'era qualche gemma nella spiaggia ma non trovato un gatto C'è un cazzo amore niente siamo sfortunati Puccioppo Il danese volante Oh no la pirla nera ormai La pirla... ma dov'è che si cambia il nome? L'aveva scelto Marco Non so se posso se c'era il nome della nave adesso Prega di si In realtà è praticamente la mia perchè la server l'ho creato io Eh vabbè Poi si potrà customizzare la nave che è stato bella quella cos'era Eh volevo vedere... Magari si può da qualche parte Si potrà customizzare appena la tipa del porto E' bellissimo Marco Medi Guarda Sono bravissimo Tac 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 Vedi vedi Eh magia No da sotto niente Ok Che bello Ma è che dobbiamo andare quindi adesso Ehm... Ma le vele tiriatele si Ah non... Eh aspetta fa vedere dove dobbiamo andare a long cover Ti imbarazzo Morelli Come si lascia la cassa per terra Morelli X X E cosa che era il tasto? Non ricordavo che imbarazzo Cazzo ho mettuto in alto a long cover Pappato Grazie mille Pappato Una nuova sabbio gentilissimo E pollo del giudizio Ma grazie mille Pappato Aspetta che era perso non parla Come è tutto a sinistra? Sto andando Appena tirate sulla vela L'ancora vado Ah giusto Aspetta Non tirate sulla vela Inizia a tirarlo sull'ancora Ma anche se è terminato E' possibile sapere come si sarebbe voluta la love story tra Olivia e Orin Si sarebbero baciati Non è vero Oh che stronzo Ah bravo Luke che ha messo il comando del pop Non sei abbastanza Che dice Eeeh Come si dice Buono Qualcuno sta tirando sulla Aspetta Una livelli e poi l'ancora Ma le livelli dovevi tirarle giù Non dovevi tirarle giù Eh no Non tiraci Spira vuoi sapere sull'isola? Ce l'avremmo fatta Ma non è vero una sega Quello qui è un capitano di merda E' un capitano di merda E' un capitano di merda Lo facciamo Perché ti pare le morelli E' tipo Ti guardano con questa bellissima taglia di capelli Guarda Questa bellissima barba a mezza Tra i miei capelli fluenti E i miei basettoni Ma cazzo Lo sto vedendo io E' sufficiente Sì, ovvio, si vedrà la personalizzazione dell'osteo Vai a Nord! Chi crea il server avrà la propria nave Gira! Io la farò tutta verde Metti Nord Nord Est, vai Tutta verde la farò la nave Così sarà bella mimetica Che schifo Questo è dei colori usa, guarda Nord Nord Est Dovrebbe essere quella là E il C ne batti 5 Ma sei un cattivo Tiro giù le vele Orelli, batti 5 Hai quella piccolina? Eeeh No, è quella dopo Quella più grande Guarda sempre in giro Dai, siamo a vento a favove Immagina andare in giro Così trovarsi il Kraken che ti sbuca davanti Eh, ti cagli addosso Cosa? Esatto, Gilbert Ma c'hai molto limitato per queste persone Chiedo tutto di vomitare Così... non diventa vero Cioè, ma non hai sposto in due in questo momento per... Per il cattolo di capelli Ah, magari in realtà magari ha problemi in Twitch Eh... Grazie Luca Grazie Luca Grazie Luca Grazie Luca Grazie mille Luca Grazie mille Luca Siamo velocissimi Eh, avete visto anche voi adesso Si incastrano delle scale, questo pettino Guarda Eeeh Eeeh Ma non solo delle scale, poi un po' comunque in realtà Anche qua Vedete? Fai gli scattini non è il gioco che va a scatti Sono dei barilozzi qua E' un sbatto dei barili E' uno dei soldi Quindi l'isola è qua E' qua lì in cima E' qua lì in cima Ok Ah, qua Siamo veramente velocissimi Siamo Eh si, guarda Sono gli alberi volanti Morelli Sono qua gli alberi volanti Cosa? Sì 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 È quella È quella? Sì È quella? C'è un... Un... Ecco il cazzo si chiama Un relitto per il mare C'è Magari c'è un pruziere Magari c'è il tracker Magari c'è il tracker Ma guarda quest'isola Andiamo lì Andiamo il relitto prima Guarda gli scogli No, andiamo prima L'avete notato? Che scogli Sembrano due scogli Questi qua adesso Un po' Dai Morelli Ti lascio la nave Eh Ma questo è una scema È andato... Ma ci agliamo dopo Ma che dopo? Guarda come si fa adesso Eh vai un po' a sinistra No 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 a destra Era più lontano del previsto Facciamo la derapata? Eh per forza Allora ti inizio a tirar su una vela Aspetta aspetta Io tirerei già giù la Ancora però Devi vedere? Non ancora Non li vedo più loro Ma che bene questa qua qua Sembra un po' di conduttorio Stiamo già di fianco all'isola eh Eh devi girarsi tutto a sinistra però Vediamo che si schiantano Quelli di cretini Non li vedo più Li vedo di nuovo Parcheggio perfetto Ah vedi Bravissimi Ma quella dove è andato? Il mare Un tesoro per vivere E poi voglio vederti a venire a nuoto fino a qua Non ci potevamo andare nel ritorno Cretino Eh ragione forse Però non è proprio il mio amico tritone Se parli da voi Un amico tritone Un tritone Intanto vediamo cosa dice Oh sbagliato È vero Sendo un coglione Sendo un coglione Sendo un cannone effettivamente Ma se farti Sono imbecile Allora vengo da voi Ma che meglio Alla barca Remi Malconcio nella caverna Costi Eh Quanto ci mette? A costiera A nord La luce arriva solo di rado Ehm Quindi sarà una caverna E poi c'ho scritto Aspetta che arrivo gli spessi a fare i dovinelli Io sono il migliore a fare i dovinelli C'è un cretino Morelli Io sono arrivato Sì A nord è dalla parte opposta Eh Paolo Non lo so La grafica che è in vacanza in questo momento Quindi niente Guarda Eh sì La Roby è in Francia Ah sì A mangiare la baguette Poi arriveranno la vita Poi quando torna Finisce le cose Esatto Sì Quando torna sarà un canale Un pochino di sorpresine anche per voi Completamente diverso proprio Sì sì Innanzitutto Esprit non farà parte del canale No più al mio canale Io Dove farò Sea of Thieves Anche se non è uscito Sì Lo farà proprio Lo programmerà lui Sì sì lo faccio io Ma scusi sono a nord ma la Ti scusi eh Eeeh Lezzer Ti scusi La grotta Eh ci dovrebbe essere una grotta Non mi leggiamo anche tu Ah qua a Corso No Ti scusi eh Alla barca Remi malconcia Nella caverna costiera a nord La luce arriva solo di rado Trovata Dov'è la barca Eh no C'è qui c'è una Una grotta C'è Ebbiamo trovare La barca Vabbè ma arrivo io adesso Eccola la barca qui dentro Che bello qua Ascolta una cosa che non avevo fatto Fatemi vedere fatemi Fammi finire di leggere cosa dice Alla barca viene Compi sette passi a sud sud est E poi scava di buon grave Sud sud est Allora Sette passi Sud sud est Sette di qua Uno, due, tre Qua Che siete che non mi trovo più io Qua Dove andare a nord E trovare Il solo nord Siamo qui sopra Eh Il solo nord Ah questa era quali che ho E' deficiente Lo vedo anche io Allora salve Ho trovato Come va? Guarda che bello qui dentro essere Stiamo qua per sempre Beh Potremmo 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 Ma c'è roba qua C'è qualcosa da ruotare C'è qualcosa da ruotare Oh a sireno Oh Mi fotti tutto Non posso Fotti Fotti Interesting Interesting Ok Adesso per rinforzare qua Scusa prendo io Allora Io lo devo lasciare qui Anch'io Intanto l'abbiamo trovato Poi basta Sì Ah non c'era il giorno Questa è la fine Che cazzo Scusa è uscito da un'altra parte Scusa Eh no Non c'era un'altra parte Ce nemmo Io ho messo i pesci sott'acqua Ecco il pesci nido Salve salve Come va? Posto? Ma come si sale adesso? E bisogna farla tutta a nuoto Che ball Eh night Bisogna il giorno completo Dino questo è il minimo No dai Forse c'era di là Morelli però se tu decidi Anche Gli scherzi Ah qui c'è una salita Qui dove? Beh io son andato a destra Ti devi col dito Va bene Ma qui si sale Guarda Esprit Che cazzo Ma fa fa culo scusa Lo scherzo Morelli Sì Ma è musicale non hai visto In questa vita hanno giunto poche robe Ma appunto è più che altro per i server Sì è per stressare i tester, server, server Poi hanno già detto che ci saranno molte molte cose nel gioco All'altro ci saranno boss Al punto c'è il kraken Ci saranno delle fortezze da assaltare C'è roba Beh Diri Diri3 No no si assolutamente È night Ancheмо base Partена tra stabile Questa è il minimo che c'è Perché è una beta Ovviamente non voglio snaverare di tutto Beh night sicuramente non posso Anche noi Per quanto Insieme è bello come gioco Continuare Kids Se il gioco fosse solo questo Sarebbe una merda chiaramente non ci sarebbe un cacchio da fare direi 15 euro no però hanno già detto che sarà un sacco di roba in più hanno già descritto cosa c'è i raid, il dungeon, il boss le fasi da attaccare il cracker appunto sono tutte queste cose qua poi ci saranno eventi costa 70 euro 70 costa eh sì classico gioco allora adesso dobbiamo andare nell'isola a forma di spermatozoo a martello ma come un martello? voglio vedere adesso morendi lo spermatozoo a martello dov'è? è questa qua è questa qua scurvi a il adesso scusa se mi zoomi sullo spermatozoo a martello vai a nord-est nave in vista ma chi se ne frega siamo nella merda a destra di noi dove c'è il temporale sulla destra sono delle luci sulla destra siamo in Italia io sono ricco passo davanti lei è un povero sotto anche al cazzo dottor dozi dottor dozi ti facciamie che comunque è un'altra credo sia un outpost però si tirate su fammi spegnere le luci va là a me sembra una nave sì no è una nave quella ah un outpost probabilmente è bella un outpost no è sarà è un outpost dove hai detto nord-ovest? nord-est nord-est ah quindi bisogna andare proprio nel temporale perfetto sento tutte le luci così siamo meno visibili sì ma non vedo niente è molto più scuro quindi non vedo guarda come si vede bene adesso la nave la guarda ci state non solo vedete ho dato l'ultima mano madonna non voglio spittare la finale mi hai dato veramente forte ho fatto 20 giri mi sono accorto in realtà vai bene è stata tempesta andiamo eh sì eh sì io vedo un cazzo però morelli eh sì aspetta ah che fastidio ok vai dritto dietro così oh no così nord-est diciamo neanche nord-est ma sì ascoltami però tico dritto non devi girare ma io non sto girando è il vento che ti muove la nave non è che eh tienila c'è il timone tienila la nave tienila eh leggermente più a destra ok dai non mi girare le vele va l'al va bene così dai adesso andiamo dritti vieni a girare le vele espritti e che ha fatto girarle eh assi tutto a sinistra mettarle ma ci vede un cacchio per morelli che fastidio e che ti devo dire non vorrei mica perdere i tesori che abbiamo sudato ma gli paghiamo la faccia mica gli perdiamo i tesori mi cago addosso espritti eh vabbè quelli sono cazzi tuoi io vado in cima alla punta con la tolta con la lanterna così ci vederà comunque stanno ancora a fermi all'isola loro morelli eh perché c'è brutto tempo non saltano lo stasera voglio questa voglio questa voglio te al sole esatto dai bello allora cantate come uente vai volenti cerchiamola felicità ma piove ma sì tanto che se ne frega però non era questa toppa fai no 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 è questa sì è giusto il relitto ah beh il relitto è nato scusa scusa orari sarà una prova di gioco per tutti o una domanda o una affermazione dovrebbe essere c'è l'x di o marzo è l'affermazione non lo so è stato confuso è stato confuso è stato confuso è stato confuso a sinistra allora e io non la vedo proprio la a sinistra ma è un pelo un pelino a sinistra non troppo e siamo sopra un'onda e non riusciamo a scendere sono tutto inclinato non è mai un'affermazione con il giusto non lo so è una domanda ok avete più di domanda quant'è orrendi però non è sicuro eh no che temi non vedo a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra è qua tutto a sinistra tiriamo sulle vele vai cazzo ma non vedo io ma io non vedo niente io saranno tutta a sinistra poi non lo so ditemi voi vai vai tantissimo a sinistra quanto è tutto grigio non si vede un cacchio Pathfinder è morto non usate comando comunque è morto però però non lo facciamo no no è morto ma è morto se è questa qui l'izzoretta tu viene tirata giù l'ancora ma è questa non lo so tirà giù l'ancora sì che è questa è il mio fidale di te io morelli e di chi se no è anche cazzo zitto sono io l'unico qui che sa le cose siamo distanti siamo distantissimi ma chi se ne frega ma che palle visto sulla nave perché qua è un casino allora aspetta lanciatevi col cannone carica il colpo con la pitona è il best mi spiace però appunto è un problema quindi non lo faremo per un bel pop Pathfinder ma mai oh ma mai per la settimana di parte allora dovrebbe essere uno vediamo insomma mi sono entrambi gli vicini in Gettorlisi dove sono io sono caduto sul tesoro no non è vero è nord di là quindi aspetta morelli e fai fare a me ho sentito il Kraken o era Ciubecca comunque era Ciubecca o il Kraken quindi è una dei due morelli guardati ti spiego una cosa vedi apri la mappa qui finito ah no è nell'erba non è qui non è qua morelli qua oh non ci ho preso e invece qua scemo è nata qua la deficiente vedi puto coglione eh sprech l'hai sentito tu e io ho sentito tantissimo in realtà io ho sentito Ciubecca eh ora Ciubecca o il Kraken o la balena non so perché hanno messo tutte le banere la tempesta che fa molto casino che mi ha mortissimo Chubenaken Chubenaken sembra un pilota di Formula 1 però attenzione Chubenaken alla curva è un spascio incredibile forse ho agito più basso dovevo vedere quindi adesso dobbiamo andare all'outpost dove c'erano gli stronzi eh non gli ho metto outpost eh Morelli eh cosa c'è eh cosa c'è eh mi faccia un petto nuoto un po' che palle oh che bene pita la tempesta non state cross over eh sì che palle comunque si è trovato la tempesta ma non sotto il Taken non ho capito se era in mezza tempesta e l'ho preso per un fulmine o non ho preso beh che è bella cazzo ti ho visto sotto la sei nudo di Acer ti ho visto ora ma scusa a te a te come hai vestiti no forse il Kack è stato una tempesta no sono viste delle immagini dov'è il sole si non c'è non c'è no dove Sì, vedere dove... Piri pipi pipi... L'outpost più vicino... È nella tempesta, mi sa. L'outpost più vicino è questo qua. Eee, laggiù però è dove c'erano gli stronzi. Eh beh, andiamo lo stesso. Qua non ce ne sono altri con intorno agli outpost. Eeeh, qui. Lontani. Aspetta, aspetta, fermati. C'è questo qua giù. Ma quelli devono dire le tizze di prima, eh? No, i tizze di prima erano qui. Sì, di sicuro. Ok, molla un attimo, molla un attimo l'acqua. Intanto gira verso sud. Ok. Eh, ma a sud è dove c'erano loro? E' questo, Morelli. Tanto dobbiamo comunque andare verso sud. Questo? E' un po' lontano. No, è un po' lontano. Ma adesso andiamo a quello... Come costumi di carnevale, è già finito il carnevale? Sembra un po' every time. Vabbè, Morelli, andiamo a sparare la faccia qui, no. Se ne frega. Eh, io voglio i soldi. Gli squali credo ci hanno diminuiti un sacco perché... ...ce ne sono veramente pochi. Morelli, vada la mamma. Hai disegnato un cazzo, eh, Sprit? No. Questo è un deficiente. Questo è un deficiente. Claro, non so vai a dormire. Ha finito la nostra live a dormire. Ehm... Hai disegnato un cazzo, Morelli. Non posso... non ho più punti da mettere. Tristezze. E Sprit, ti stai levando da... ...da questa mappa di me. Io sono in direzione sud. E non so dove puoi andare perché c'è Esprit che disegna i cazzi nella mappa. Ma sud-est! Ma sud-est devi andare. Disegna i cazzi nella mappa. Ma sud-est? Facciola lì che ti faccio, guarda. Stai disegnando i cazzi nella mappa ancora. Ehm... aspetta, smettiamolo in prigione. Ma non è vero che c'è disegnando la mappa. Ho fatto una rotta, l'ho fatto. Leva sta cazzo di mappa. Non sei tu il mappaiolo, vai via. Vabbè, devo fare tutto io. Allora... Da te... E' la nave in movimento a... ...verso sud-est. Devi alà. Devi alà. Devi alà. Svialà. No, si, sto andando però dall'altra parte. Era giusto comunque, su sud-est, era giusto. Questo di cacchio. Poi navigatore, vai in cima alla nave, allora. La navigatore va in cima alla nave, tiriamo giù ste cazzo di vele, va là. Tranquillo, mi sta. Intanto siamo contro vento, come al solito. Ah, cos'è giusto? C'è un'isola con il nome del Kraken. Sarebbe di andare a vedere. Sì, c'era anche prima quella. Magari ci ha preso qualcosa. C'erano un caldo che mi sembrava, avevo sentito. Ha un tuono. No, ma siamo in destra. Dobbiamo andare Morelli, forse. Eh? Tutto a destra da mettere la vela. Forse dovremmo andare. No, non ce la fai. Guarda, tu vorrei vedere questa punta muro. Pirimi, pipi, pipi, pipi. Ma... Ma Abii! E' la signorina Abii. Ma... Grazie mille Abii. Ma ciao Abiii! Due Macy's. Cazzo le vele, cazzo le vele! Merda. Cazzo la randa! Beh, mi sa che è quello là, no? Questo? Sì, è quello là... in fondo. Gente? Eh... è andata là la nave. Ma questo è un... è un inizio di spado, Morelli! E' un forte, come si fa. Eh, va be, ma questo qui me ne sbatto. Sparassero pure gli... Sparassero pure gli spacco. Rispondete al fuoco, aspetta. Infatti, come se mi fa le gattiello, rispetto. Sparare la faccia di cosa. Sparare la faccia di cosa. Che cazzo le scale! Sparare la faccia? Che cazzo non si riesce a camminare dentro sta merda di nave! Eh, un pochino c'ho freddo, non so. Tutto nudo su. Oh, schifo! Un live? No! Un personaggio, non vedi? Sono tutto nudo. Chiudere! Ma c'hanno il fuoco! Non l'avevo mai vista la torre... Beh, il petrolio stanno tirando su. Al faro, qua! Andiamo? Eh, è quasi quasi. Non rispondeva al fuoco. Già che è un watchtower! Ma dai! Niente, Morelli. Ma come si fa? Questa ci prende. Ma dai! Quella la prendi, però. C'è, vedi? Vedi, Morelli, come si fa? Non sei capace. Guarda, fammi a calcare la torre adesso. Guarda! C'è! C'è! Ho capito la torre. Te la becco anche io, guarda. Vai! Mi sa che l'hai mancata. No, no. Invece? C'è? Tronzi! E non provateci mai più! In realtà non ci avevamo mai sparato. No, fai! C'è! C'è! Guarda qua come si fa! Ti inizia sto andando giusto che non vedo niente. Sì, sì. Un po' più a sinistra all'isola, ma va bene così. Poi ti... Correggi alla fine. Ma sì, scorreggi alla fine? Sì, sì, scorreggi alla fine poi. Non voglio questa. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Però c'è sempre brutto tempo oggi. Non c'era mai una bella tirata splint. Eh... Potevi controllare il meteo prima di partire. Vabbè. Appari, scompari. Appari, scompari. Appari, scompari. Appari, scompari. E mi sto, sono un mago io! Eh sì. Che bellazzo! Si è scompari la testa! Sei uno strumento uguale adesso! C'è il te! No, non è molto Pathfinder, dai! Mi hai detto. È molto Pathfinder. No, sbagli! No, sbagli! Non lo hai sentito! Vai a sinistra! Non vedo però. Ma è questo? Ok. Mi piace, metteranno anche il flauto dolce. Chissà. Lo troverai se o no, scusa? No, che fa male alla gola. Ah! Chi è? Andrà matta! Sette mesi, gatti. Questo è davvero basso l'audio dell'autore. Non so perché. Io non posso abbassarmi qua. Lo troverai se l'autore. Ehm, le vittime stanno andando giunto. Sì, sì. Scusate un attimo eh. Ok, va bene che si abbasso l'audio delle notifiche. Quando ti dico gira a sinistra, tu gira a sinistra. Ok. Gira a sinistra. Che bello questo caricamento. Va bene la beta. Quindi dopo regoliamo. Insomma così. Mi giro. Guardo. Mi giro e non è ancora a posto Morelli. Guarda perfetto cazzo. Ho il problema di PUBG io Morelli. Cosa c'hai? È che non vedo le texture. Che texture? Eh, quelle di queste cose. Ma che palle, guarda. Ah, aspetta. Sembra proprio un computer della cacca. Ma prendete gli iscritti, stronzi. Eh, che imbarazzo. Però questo problema non avevo cosa... No, da mettere in palle. Eh. Zanov 90, grazie mille. Senti lì. Eh, potersi avendo aggiunto roba. Scusa, mi sei parlato il gioco. Come faccio adesso? Non posso andare sull'isola io. Eh, e quindi? E quindi vediamo di andarcene il prima possibile. Ma che schifo! Non mi ha dato una sega quella cassa. Eh, provo a far così, magari. Ah, che bella st'isola. Eh. This is a problem. Eh, sì. Sì. Ah. Ok, sono a passare a destra. Non sto bene. Hai preso un altro spiriglione. E poi l'ho preso adesso. Perfetto. Va andando a destra. Allora... Per me dovrebbe essere un uomo. Dovrebbe essere quattro. Ah, può essere che andando a destra. Ci ho pensato. Vabbè, si sistemate. Imbarazzo. Era tutto ricoperto di fango, sì. No, no. C'è il texter non vedo niente. C'è il texter non vedo niente. C'è il texter non vedo niente. Eh, dove deve andare il tipo Morelli? Di davanti. A me non stiamo facendo soldi. Guarda, è perché ti dici a consentito le cose eh. Eh sì, no, capito? Danno 40 stai clini. Qua, era robito sulle missioni di livello U2 queste qua. Non c'è il tipo. Come? E lascia giù. C'è il texter. 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 Ho speso tutti i miei soldi. Ora non posso comprarmi le cose... Cosa hai preso Morelli? E ho preso il livello sopra per prendere nuove... nuove robe ma... Sì, sono un po' raffreddato oggi. Ok. Possono vendere... le cose. Vediamo cosa carlo, le vediamo. Signor Carlo. Mmm. Ma l'isola è... Che bello, lo voglio questo qua io. L'uncino d'ammiraglio, lo voglio io. Eh vabbè, andiamo... a cercare un altro treasure. Andiamo a fare in culo Morelli. Ma a caso. Aspetta. Occi dai. No, uno ce l'ho ma... Ah ok. Di quelli... I passi. Guarda le vestite che c'ho addosso, per me metterla di gatto. Quello che ho vestito io Morelli. No, l'isola... Almeno gli autobus, questo outpost qui non c'era... Ma lo fate adesso le vele? Che hanno la birra... Il... cosa della birra. Eh sì. Si potrà costumizzare poi. Ah ma io la tenerei così. Questa che è mia. Vedi è verde e quelle cose... Allora... Andiamo... venite a votare il cazzo qui. Sto arrivando... Salto! Oh c'è un pesce davanti sulla nave. Del... E così c'era anche prima. Il pesce interno. Non si chiama la patata di la nave dove c'è... La... Prua. No a parte quello... La colena. Il puntale. Ma le vele non sono su! Eh merda! Si è in cartina, scusa. A parte dove dobbiamo andare. Non lo so. Dottor chi? Isola a forma di cazzo... La polena. Ok, ok. Ok, la polena. Ho capito! Ah, è qui vicino eh. Capita! La polena? Non ho capito. Potete ripetermelo? La polenta. Vedi? Coglione. Ma che puntale! Troppo di Natale! Eh si! Eh si! Che cazzo! In parabrezza! Dovei soffiarmi il gomito, ma non posso in questo momento. Sto giocando. Dovei soffiarmi il gomito? Si! Sì! Sì! Già siccome hai capito, Vonelli! Grazie Abby che mi hai ripetuto! Ma secondo me comunque non ha ragione, cioè Abby, comunque. Comunque deve andare a sud-est, mi pare. Molena va su GAN! Cazzo sud-est proprio dalla parte opposta! E devi fare il giro del... No! Aiaiaia! Ma perché tu sto bug di robe? Palle! Vai a sud e poi vai ad est! Ah è qua proprio! Eh si! È vicino, è vicino! Ma che bellina questa idola! È un... È un'ocarina! Eh... Ah ecco! Sì dai! Un'ocarina! Non è un cazzo strano allora! Ma perché è un cazzo strano? Come fa ad essere un cazzo strano? Come fa? Eh... Dove sei Morelli? No! Che tiri giù la vela! Ma attacola che la tiri giù! Morelli dove sei? Ma non è vero! Ci va su! Sono sopra! Morelli! Girati! Adesso mi spieghi come fa ad essere una vela... Un cazzo questo! Eh? Ma come fai a tenerla con l'uncino? Bravissimo! Come fa ad essere un cazzo questo Morelli? Come fa? È strano ho detto infatti! Guarda te! Ok! Questo ha il cazzo triangolo c'è! Non lo so! Ok insamo! Ok andiamo in tutto questo è vero! Vai! Non troppo che sono le rocce! Ma niente! Che cazzo è andato! Che cazzo è andato! Ma li vedevi però! Eh beh perché gira... Non è che è una macchina! Anche i sesterzi gira subito! Eh anche i sesterzi! Ando giù a riparare i cacchi! Voglio un quarto d'ora per girare il tuo wall! Eh beh! Andiamo! Quanto spettacolo! Perché è il tuo speed... Si attiva! Ok! Noi! 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 Non è Danic! Qual è il gira? Non è Danic! Perché non c'è una... Eh! Vorrei... Abbiamo una più uscita privata comunque adesso! Eeeh! Non ti va bene! E' da dove cazzo stai andando? Tu ho detto su destra perché stai andando a destra! E sulle onde è un casino! Ma no! E poi c'è un'isola gigante qua! Non è che qui stai andando su destra e c'erano contro! E va bene! E come? Devi passare in mezzo qui! Eh che cazzo sti bug! Non lo faccio! Non lo faccio! Guarda è proprio... È proprio lì in mezzo! Ah! Quell'isoletta lì! Si! Guarda lì! Se mi arrivano l'ostacco per favore! Non posso! Devo guidare l'edra che sennò qui moriamo tutti! Ah vabbè! E poi c'è Abel! Adesso non abbiamo tutti voli sulla barche! Ok fammi tirare su una vela! Eh Esprit vai a tirare l'ancora! Eh non riesco a salire delle scale! No aspetta! Vai a tirare l'ancora! Tira l'ancora! Tira l'ancora! Eri accanto all'ancora lì! Poi tira da te! Non è che questa va fuori di cazzo! Vedi che forma di cazzo Esprit! E' tutto forma di cazzo da fare un mondo proprio! E' proprio piccola stai su... Ma ce l'ha bisogno? E' facile! Troppo! Eeee... Qui! Qui qui qui! Nave... Da... Nord... Eh! Sbatto! E' abbastanza vicino! Eh! Guarda mi stai acceccando con quel cannocchiale! Stai facendo gli abbaglianti! Chi è che fa gli abbaglianti? C'avranno visto sicuro! Chi è che fa gli abbaglianti? E' possibile! Ah perché c'è riflesso! Ah sì! C'è riflesso è vero! Sì! Chi è? Bulc933! O Malk! Sette mesi! Grazie mille! Grazie mille Malk! Eee... Eee... Guardare io! Io non l'ho preso! No mio! E' niente! Eh infatti! Inventare vuoto! C'è un'altra parte magari! Eh no! E' questa qua vicino! La terra qua! C'è... C'è uno anche a destra! Dritto! Quello è a dare! Quello dritto! Dai! Questo qua! Vai! Questo qua! Com'è Morelli? C'è un coglione! Lo buttiamo in galera! Vai! E' tranquillo! Eee... Non fare niente! Se facciamo un dive! Mi fermo! Mi fermo! Vittor! Quello qui non sgobba! Ma anche tu qui avevi fissato per mezz'ora! Sei sgobbo! Ti caco nella testa! Ti caco! Altro che... Viglia di Filippi! Tutto storto sono adesso! Eh! Stiamo andando a controllare una nemica però! Ma abbiamo due scrigni! Perché l'altro prima? Chi è che non l'ha portato? Mmm! Ma ne mancavolo! Questi sono! Di solito quello che costava di più! Non l'abbiamo portato prima! Stiamo andando a controllare una nemica di qua! Io ve lo dico! Eh! Era davanti a noi! Allora fa un culo! Un po' bianco solo! No no! E' là giù dietro le scoglie! Ecco! E allora no! Torniamo a quello indietro! Andiamo a quell'alto! Quindi giro tutto a sinistra! Era tutto indrio! Però abbiamo le vele tutte! Aspetta! Ci stiamo io! Aspetta! Aspetta! Dobbiamo andare a... Eh! Mokejiri sarà ovest! Ovest! Nord ovest! Ma siamo sempre contro il cacchio di... Contro il vento! Sempre! 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 Siamo contro il vento! Sì! Con calma! Allora! Eeeeeee... Nord ovest! Bene! Pi 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 pi! Bravissimo! Zierx Ray! Però i nomi più semplici potete sceglierli! Orca me! Veramente! Guarda! Adesso andando in poi! Chi ha un... Chi ha un nome con più di quattro volette... ...e... 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 Ehm, Nicola, tu ti ricordi qual'era? Qual'era? Quella? La malinconica, questa Questa? No, no, mi dico Vai a destra, leader Ok Tira su le vele, un po' su di qua le cose Ma che se ne frega le vele, non scantarsi Che bello l'ingresso con... Belli L'ancora Morelli No, è presto, presto Non vedo la texture io Espre, stai all'ancora tu, eh Come sto all'ancora? Cos'è me lo dici? L'efficiale? Prendi con l'ancora Ti stai a te Aspetta, aspetta Aspetta Morelli Aspe... vai Non c'è che l'ancora ti metto un po', non è giù, vero? Eh sì, appunto, avevo detto aspetta Vabbè, questo si deve un po' a marcia Va che parcheggio perfetto Allora, io li devo aspettare come sempre Aspetto 5 minuti io Bene, intanto potrei portare un cazzo di forziere Ehm, boh Ehm, boh Ehm, eh Imbarazzo Ah Ristemato Ok Ah, io che porta Ah, non c'è il suo potere mai niente Quanto buio però, porca volta Ehm, come si muro Ehm, come si muro Spero cazzo non si vede Vai per dare una palca a me, va da che meglio Non ha dato niente 213, dici? A me non ha... ah, adesso è tutto qua Bene, adesso posso prendere... qualche mission di meglio Arrivo, arrivo! 54 l'altro, che cazzo Ehm... 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 Imbarazzo belli Imbarazzo Imbarazzo Allora... cosa c'ha? Non c'è il tipo dove... Mi vado Favi prendere un vestito, non è che sono nudo Aspetta, faccio una magia, eh? Ehm... Vedi? Ehm... adesso andiamo via... Ehm... Io ho preso il... quello... Ehm... prendo un bottino di merca su questo peravero là Cosa prendi? Un bottino di cacchio Ehm... prendi, ci sono quelli da zero, in teoria dovresti avere tu No, da 6 possiamo prendere Vabbè, prendilo Dai, lo prendi la pala d'oro, lo fanno ancora tutti quanti Vabbè, non dovrei essere più nudo credo Tanto... il tuo bottino poi chiamarai e non usare mai più, non si occupi, mai più Mai più Mai più, mai Mai più C'è Andrico Games, nove mesi, grazie Aspetta, non parla di internet Ah, e De Paul sette mesi Grazie mille De Paul Grazie mille De Paul Grazie mille De Paul Erano due vendi sti Eh si Io ho capito Morelli come funziona, se io tabbo il gioco mi si sistema Che magico allora Fa un refresh Ok Della... Mentre da voi Morelli vado con la macchina Stavo trinando la macchina Eh, stronzo Allora vediamo dove... Ma... Ma... Ma non stiamo andando Metti il viaggio Aspetta... E vienilo a votare E tu vienilo a votare Ah aspetta, volevo prima fare una cosa Ma prima votalo intanto vedo dove cazzo andiamo E che imbarazzo si gioca a volte però Eh... Io per metterlo te da l'altro Oh Ma vi si incastra di sotto però Vi si... Vi si incastra Allora di monete sotterrate su Shipwreck Bay Ce ne sono molte E ti apparterranno se le hai raccolte E ti apparterranno se le raccoglierai però non se le hai raccolte Eh infatti Eh scusa È qua sotto È sbagliato Tutto a sud bisogna andare Eh... Che ti devo dire Eh la rima hanno sbagliato a scrivere Vabbè ma i pirati mica erano così studiati È vero è vero Sei dritto a sud? Eh... Praticamente Praticamente è sbagliato Vedi C'è... Guarda qua la combinazione Elementi Vai Sì A tutta birra Ma che birra? Scusa Abbiamo il grog Morelli Eh... A tutto grog Ho finito il grog Aspetta L'ho finito Rifornisci Ok Morelli Eh Beviamo No Come? Eh... Si fa sto male Scusa Si fa sto malissimo Morelli Oh... Vado a prendere il grog Aspetta E non potevo E vai È troppo tardi E loro la bevo da solo Me ne sbatto Dai C'è una nave laggiù Dove? Scusa La speroniamo Andiamoci contro Dai E dobbiamo andare nello stesso posto Scusa Scusa dai con uno scontro fuoco Ok Peronala Proprio così diretti Ma c'è l'isola davanti o? Sì sì Quella lì l'isola dove sono loro Ah no ok Ho visto ho visto Eh perché non la vedevo avevo La speroniamo e li prendiamo tutti soliti Loro sono fermi eh Poi te ti crede essere a sinistra Ha messo giù le vele Ha messo giù E niente hai cannoli Sono ubriaco io Non so se sto andando contro Vai a destra a destra Ci stanno guardando col cannocchiale Eh no a destra non potrò mai Ci hanno sfondato Anche io l'ho sfondato Tira giù la Ma sono ubriaco io Come faccio guidare qua Ma perché? Perché io sono ubriaco Tira giù l'ancora Non ce la faccio ad arrivarci Che l'ho tirata giù Morelli di sotto c'è dei buchi però Oh no Oh no Morelli La fiancata Morelli Andiamo a riparare Morelli cazzo Si sono girati per sparare Eh lo so Poi non posso sparare Che sta affondando la nave Ora è E scatta E scatta E' Esprit Che mi ha detto di bere Comunque Capito? Ma c'è da noi Quella che sfida abbiamo? A riparararvi Sono per ricaricare Cosa? Sono per arrivare contro Eh vabbè Devo tirare su qui Cioè tirare via l'acqua Se no è un casino Sì Grazie Buttiamogli l'acqua nella sua Sì Arricca le palle di cannone eh Sprit Partiamo su l'altra anche Scusate Eh sì Guarda andiamo Stiamo qua fermi Ok Stiamo fermi Giriamo e basta E gira a sinistra Sinistra ok Partiamo all'inseguimento Ah merda sono qua Sulla destra Sulla destra Sulla destra Non possiamo stare fermi Ci sarebbero venuti addosso Beh Eh beh È la fine Ho capito ma così siamo andati via da dove dovevamo stare E via da loro È la fine No no siamo qua noi stiamo girando intorno a loro È la fine È la fine Siamo affondati gli Ezzer Non siamo affondati Eh allora no È la fine qua sotto È la fine Blu blu Incomio sbloccato Marinaio dell'orizzonte dorato Ah c'è un buco qua Un'aumentato di reputazione del cacciatore Ma comunque gli abbiamo uno sparo alla faccia vorrei di eh No no ma gli hai tirato un colpo e esplosarono Tre colpi? Tre colpi totale beccati eh Esplosarono Eh ma anche io gli ho bello beccato Perfetto È che se stavamo fermo potremmo girarci un posto per clear le più volte E accendo delle luci ma più pastiglia Proviamo a riandargli contro Eeeh dove gazzo sono? Dobbiamo riandare in quell'isola lì No qui adesso Esprit carica le palle Eh che c'è Non abbiamo Non cagare le palle su tutti i cannoni male Tenti di andare a mano te E cagli ogni volta Sì sì Non abbiamo adesso solo tre palle di cannone Eh punto non mettere su ogni cannone Sono le spreche E tiraremmo su ste gatto di vele poi Vabbè non siamo mai tranquilli Capito? Avete tirato giù tutte le velle Che siamo andati a tre chilometri Oh Però dietro lasciamo Alla a destra Questa la facciamo Che alimentare? No se son fermi o che È probabile Gli andrà ecco, contro. Ehm... Che facciamo spettacchi? Eh, non so, questo sfoglio qui. No, credo che dovremmo riuscire a girare. Non lo so. Tirate sulla vela dietro, un pochino. Ok, ritiratela giù. Però la giù esco. Sì, che fatica. Ok, io gli vado contro. La ritirati dietro proprio nel culo. Eh, ma siamo contro vento. Comunque hanno tirato su tutto. Non ferma... No, l'hanno tirato giù. Eh, perché ci hanno visto. Perché è una falce, spacchiamo, aspetta. L'hanno tirato giù tutto. Piriri, pi, 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 pi. Sì, scappano, mi sa. Piriri, sì, scappano. L'hanno fissato, eh. L'hanno fissato. Scallocchiale è un faro, eh. Gli ho visti proprio questo cannocchiale, li ho visti. Eh, è un faro, eh, cavolo. Vabbè, ci fermiamo noi, qua. Ci fermiamo? Sì. Tutto sinistra, tutto sinistra. Hai sparato quanto, gli spara? Ma gli hanno sparato dall'isola? Eh, sì, gli schietri. Tutto sinistra, gira, gira. No, non andare a sinistra. Andiamo lì, dove... Sì, se no puoi uscire, ci mettiamo un'ora. Ma che dura. Ma ci facciamo, c'è. Guarda quanto gli spar. Sì, gli sparano anche noi adesso, eh. Sono fermati, comunque, quei là. No, vanno via. Sono anche dei barili in acqua, ci sono. Boh, fiammo qua? Aspetta, aspetta, che quando ti vai su l'ancora si ferma subito. Lì ha relitto. È vero? Ci metti un po' a scendere con quei l'ancora, eh. Sì, ma poi si ferma subito. Va, abri, 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 suba. Vai, vai. Tutto a sinistra, dietro, andando. Ok, cosa dobbiamo fare, quindi? Allora, adesso... Tanto dobbiamo scendere nell'isola. Eh, ma non siamo davanti al nemico, Royce. Siamo dietro al nemico. Perché ho scappato. Ma no, Morelli, mi confermi. Noi volevamo incazzare. Ma cosa? Ma tu sei vivo oppure mi sei scontato? Stavo guardando la mappa. Ma come puoi fare una cosa? Consultare questa mappa al ritratto del leggendario Capitano Pendragon è saggio. Solo così scoprirai il suo retaggio. Dov'è il Capitano Pendragon? Scusa. Il ritratto del Capitano Pendragon è saggio. Quindi ho trovato il suo ritratto. Trovare il suo ritratto, che imbarazzo. Allora, dov'è il ritratto di questo Capitano Pendragon è di drago? Eh, non lo so. Sarà qui nella nave. Era la sua nave questa. Questa è distrutta? Qui? Ma al jezer, mi hai accecato. Qui? Madonna, ma è così forte. Ho trovato uno scrigno incredibile però qua. Come? Ah, sì, forse era del Capitano. Prendilo, prendilo. Corri via. Che imbarazzo non è questa sua nave, scusa. No. Vedo nessun ritratto però. Oh, vado a fare un giro allora. Ezza, vedi se... Qua, qua il ritratto, aspetta. Ok. Scusa, io non l'ho visto, sono un coglione. Era nella sua... Cabina. Ma è stato nella sua cabina. E sei stupido allora, era lì un ritratto, cacchio. Un cretino. È perché è piccolissimo, non l'ho visto. Leggi, leggi cosa c'è scritto, poi. A... A sotto? A sotto? C'è qualcosa che vuole fare. I esti mostosi che si affacciano sui mares a nord. La tua ricompensa è vicina. Io ho... A sotto esti mostosi, non l'ho capito comunque. Papà di re Artù, ma non era anche re Artù Pendragon. Scusa. Pendragon, non era il cognome di Artù. A nord, resti mostruosi. Allora. A sotto... A sotto i resti mostruosi che si affacciano sui mares a nord. La tua ricompensa è vicina. Compre un gioco. I resti mostruosi sott'acqua, quindi. A nord. Non mi posso dire sott'acqua, l'orebbi. Eh, saranno nell'arriva, saranno. Questi sono i resti mostruosi. Sì, sono questi. O quelli... Allora, aspetta, lo diceva. Poi. Diceva. Otto passi est. Otto passi est, scava fino a mattina. Che palle, fino a mattina. Anche se trovi già il portiere, devi continuare a scavare, aspetta. Non so se sono questi. Boh. Che provo. Eh sì. Eh! 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 Mi sono spaccato le tibie e... Eh! Eh! Ho pure la pala d'oro. Sì! 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 Ma chi sarà mai! Rimanni! Grazie mille, rimanni. Grazie mille, rimanni. Allora, rimanni con noi. Andiamoci, andiamo a consegnare o continuiamo? Beh, per favore di iscrivervi anche al canale. Per favore di iscrivervi anche al canale. Allora, fammi andare a vedere quest'isola a forma di orello. Allora, facciamo calma però, eh. E calma, e calma. Allora, l'isola a forma di buco di culo. Eh, quasi. L'isola a forma di buco di culo è questa qua. Dai, vediamo che sono zaccato. È zaccato. È zaccato. Bisogna andare tutto a nord-est. Ma che schifo di merda! Dove devi andare a nord-est. Quali sta roba? È questa. Dai! Vai, arrivo. Ah sì, ha... Ha scappato a volte. Ha muerto una gemma più da gatto. Io la voglio anche io, la voglio. Per te. Ho fatto la gemma dell'opulenza. Esatto. Sempre contro vento. Mi han rotto i coglioni se gioco. Ma perché sei sempre contro vento, ma scusa? Eh, non è possibile. Ci abbiamo la maledizione del contro vento. È potrebbero di che essere. È la nave lì davanti. Sì, è piccolissima, però. Sì, è piccolissima, però. Sì, è piccolissima. Speriamo la faccia, piccolissima. Sì, è da solo, sarà. Ah sì, è da 1, quella. Da 1 o 2. È un po' di più sinistra, però, perché c'è contro l'isola, magari. Ehi, allora Darkmark è quello dei termosifoni. È un ottimo canale. A me è un piaciuto moltissimo, comunque. Sono gusti, poi, eh. Sono gusti, tu hai gusti di merda. Io mi ho la conto moltissima. Sei un po' aggressivo Morelli oggi, comunque. Sì. 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 Leggermente è più... Eh, ma dritto, anzi. Dritto è così. Non muoverti di un millimetro. No. Proprio mai più, eh. E oggi, ma che ha traslicato i suoi, quello stronzo, guarda. Quello stronzo, veramente. Vabbè, un gioco di Mnuch of Thieves è un gioco. Un artista... Mangiare le chiappe. Esatto, era il butt plug dell'ovulenza. Ma buono, oggi è molto stanco. Come me. Ciao, oggi è un po' che... Morelli. Eh. Siamo in trame stanchissimo. Perché cazzo faccio l'aglio nel quattro? Perché la facciamo? Veramente, oh. Perché siamo in live? Siamo stanchissimi? Sembra che mi sono svegliato anche per parlare del gatto. Sono proprio un testa di caccia. No, sei un po' un coglione. Perché si sveglia da parlare del gatto? Mi se ne frega. Ah, veramente. Voglio giocare a Sio of Thieves. Solo per voi che ci seguite. Esatto. Perché sennò stai a giocare mostrante in questo momento. Sarà che vi voglio bene. Esatto. Vai proprio sinistra dietro. È già finita. Siamo avuti con lo sfoglio. Ma che male, ma che male. Ma che male così dietro. Sempre dritti. Ma basta. Siamo tutti quelli qui, però. Tommiamola. Ecco. Eh, non usa dietro il timone. Molto usa. Cioè. Scusate. Siamo impresso da dare. Siamo impresso da due. Sì, sì. Per condizione, Mark dovrà abbandonare Charizard. Esatto. Morelli? Ma che paura. Sono scambiato di sotto. E sbagliato per un secondo. Anche qui misti che siamo, Morelli. Aspetta, non c'è una cosa, eh. Aspetta. Sì. Puipo. Puipo. 98. Grazie. Puipo. Eh. Allora, guardi. Questo non è più misto. Aspetta, eh. Aspetta, Morelli. Guarda come si fa adesso, eh. Guarda, eh. Guarda, eh. La prima è così. Sì, c'è un dito nel culo, eh, Sprint. Ma c'è una nave a sinistra che sta arrivando da noi. A destra, Mark. Guarda, Morelli. Eh. Ma si sta capottando. È a sinistra, che è a destra. È affondata. Ma non, quella. Non ho immiatto la vita. Io a sinistra, c'è un galeone dietro di noi. C'è una destra che è affondata. C'è una destra che è affondata. E' quella di prima, eh. Ci seguono. Non ho appena visto. Sono le strutture di prima sono, eh. Ah, sì. Questi qua dietro. Adesso dopo facciamo la derapata e gli sparano il confino. Se vuoi fare di là da destra, è già pronto. Andiamo a sinistra, Polenzio. Andiamo a partizzare. Ma no, che a sinistra è questa? Ah, senti? Eh, ma non possiamo fermarci, cioè. Certo che possiamo. Ok. Aspetta. Sì. Non male. Dove vai, Glièzi? A sinistra. No, non a sinistra, ma le onde ogni tanto sbatto. Tira giù l'ancora. Vai, il tuo sinistra, eh. Tira su l'ancora, esprete, aiutami. È così? Sì, sì. Puoi sparargli? Eh, loro ci stanno già per ingaggiare. Non so, credo che vogliono andarsene via. Non credo, credo sia un girato per spararci. È il tuo sinistra, eh? Sì, sì, è tutto. Sparo la faccia adesso. Gli sparo? Eh, se avete una buona mira. E se avete una buona mira? C'è un altro pontario, forse. Riprovo. Oh, guarda che forse... Cazzo, Morelli. Peccato, creepy. Cazzo. Sì, dobbiamo essere stronzo, però. Tiriamo giù le vele, però. Tiriamo giù le vele. Vediamo quanti sono. Ci vediamo, ci vediamo quanti sono. Uno, due. Due, tre. O due. Tre. Ne vogliono andare. Speriamo la faccia. Partiamo l'inseguimento? Così, Morelli. Tira su, tira su. Andiamo all'isola, noi. Come si darà, ma fastness ship. No, no, sono giocatori di pirati. Sono giocatori, sono giocatori. Non resistono bot pirati. In teoria. Andiamo all'isola a cercare questo tesoro. E' questa davanti l'isola, che abbiamo fatto uno di giri. Ma cazzo, era quella dietro? E' quella, quella davanti. Allora, poi, dobbiamo andare, però. Abbiamo fatto letteralmente due della parte, Morelli. Siamo giusti adesso, vedi? Siamo qua la prima. Vai a destra dell'isola, che il tesoro è... Ma gli stonzo tornando, eh, li vedo. Sì, sono ringraggionato. Ma c'è anche quella davanti, là. E' quella di prima. Sì. Cazzo. Sti bestardi. Vedi, affrontiamo a terra, eh. Non è che... Aspetta, ritiro giù la vela. Ovviamente a sinistra, niente, però. Troppo a destra, se non mi. Più a sinistra, niente, più a sinistra. È troppo veloce, volendo. È troppo veloce. Ancora, però. Sennò la superiamo, eh. Ancora? Eh, sennò superiamo l'isola. No, 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 no. Eh, ma sì, poi superiamo l'isola, eh. Dovevamo superarla e andare a nord. Così... Ah, abbiamo la nave proprio dietro di noi. Sì, è troppo sista. Ci sparano, adesso. No, no, perché loro adesso dovrebbero comparire. No, adesso ci stanno sparando. Ah, eh. Vedi, vedi, vedi. Vedi, vedi, vedi. Vedi, vedi, vedi. Vedi, vedi, vedi. Cosa stai facendo? Aspetta, sto tirando su una vela. Sennò andiamo contro... E' una mira di merda. Pronti con i cannoni a sinistra? Eh, è in pet, è in destra. Ma cosa la vuoi? Eh, no, non conviene tirar su l'ancora, però. Beh, no. Questo è direttamente a me. Eh, allora, non lo so, non mi no. Eh, cazzo. Scusa, prima berata secondo me. Io ho finito le palle. Vado a riparare. Ti vengono addosso. Pronti con le armi? Ma sono pronto con un cazzo, io. Sono fermati. Sono altri buchi. Eh, però ci hanno messo a favore nostro. Devo rivellare di palli di cannone. Aspetta, infatti, con un palli di cannone mi pare si rispetta la faccia. Dove sono le palli di cannone? Sotto. Eh, sono quasi finite. Ce ne sono sette. Tiè. Benzio, zero. Aia, brutto colpo. Ma ci sono quasi minute che ci hanno colpito dietro. Non riesco a camminare. Non abbassa la fine. Aspetta, aspetta. Aspetta, all'altra parte. Cano di all'altra parte. Eh no, devi girare la nave. Devi girare, se no. Eh, ma se non tirate sull'ancora, non lo so. Eh, Morelli. Sono soltanto a tutti. Eh, si sono proprio fermati dietro di noi. Eh, ma non fa il culo, cara. Gira, gira la nave. Eh, sto girando. Ma se no tiriamo sull'ancora, non gira mai. Eh, ma come sto messi l'orone. È in mente, ormai è andata. Oh, guarda, gli diamiamo sull'ancora, diamiamo con l'ancora. Ed è anche te che si riesce. Eh, Ed è anche te, perché tu non sei all'ancora, allora? È mezz'ora che dici di te, era sull'ancora. Perché stavo girando ancora il simone. Era tutto a sinistra. Quattro d'ora per girare. Però le vele devono essere su, se no, è inutile. Eh, ma giriamo sul posto. Io ce le ho, le sto smitragliando. Usiamo la nave come cannone. E cazzo, è proprio a swap adesso. Usiamo la nave come cannone. Non ci sono più, è un ciò piassi. E c'è fondamenti, è proprio a perso. Non ciò piassi. Ahia. La nave. Si salvivo. La nave. Andiamo dai strotti, andiamo dai strotti. Prendeteli spigni. Dove sono gli scritti? L'ho prezioso, non c'è più. Prendiamo la mia faccia, andiamo da loro, andiamo da loro. Spero di me la faccia. Ne lo vado a regalare. E quanto rumore fa. Ma svolta, non ho più dei... Chi ha visto tutti quanti? Eh, io ce ne avevo due, ma ne erano rimasti. E tu vedete che non ti dirai niente? E niente, se ne stanno dando. E non ti diranno. Ma fatta, scusate. Ma due miei buchi, perché non sono a terra loro? E niente. Tre belaschi. Perché non sono affondati, siamo tranquilli. E perché si vede che riparavano? Non so, magari... Ma magari loro erano anche i quattro, uno in più fa la differenza. Eh, sì. Io c'ho uno scrigno, l'ho portato in salvo, amici. Eh, vado a... A nuoto all'outpost. Eh, lo squalo, tre puttana. Non so dove l'outpost. Sì, mi sa che era una nave da quattro, e uno in più fa tanto. Ah, sono morto. Ho sentito il Kraken? Poi era una scorreggia di un... Avevo due... Di una ballena. Io, Luca, avevo un asse, io. Avevo un asse. Le pare che non mi ero presa tantissime io, ma avevo un tipo, il più di loro. Non mi neanche ho presa a caso. Le asse le avevo una, alimentario. Guarda, una. Ah, poi vabbè, comparto la... Tab. La? La nuova salve. Cesare Andalo. No, non lo ho preso io. Sono mica deficiente, insomma. Ah, io non l'ho sentita. Comunque grazie mille. E a Josefu 0000. Aspetta! Ma che a me non comparto. Non accettarlo, dovete. Josefu! Non è partito? Beh? Eh, la nuova salve non è partita, no? Eh, che imbarazzo. Eh, ma... Ah, eccola. Adesso a me è partita. Eh, non è quello, Mary Jones. Ci sono gli forniti. Niente, come qua sono le quattro. Provo altre, scatemi. Dov'è fuori? Grazie mille. Eh, niente, alla fine è così. Busa, ci sarà mai. Andiamo a vederne. Ahia. Sto morendo dagli... Sì, non lascerò il mio tesoro. Sì, però è vero, fast. Nel momento in cui avevamo più i legni, perché ci affacevamo. Può essere. Perché abbiamo comunque resistito tanto. No, peraltro era una posizione di merda, però abbiamo resistito veramente tanto. Però una persona in piedi fa tanto. Perché una persona in piedi fa uno riparare, due magari sull'ancro, o tre sull'ancro direttamente. No, si vedono i simboli delle sub, si vedono, si vedono. Vedono anche il tuo, ovvio, Luc. Sì, sì, no, si vedo. Provo aggiornare la chat. Ma strano che ci sarei... infatti ci sarei andato a... a me segnalo WhatsApp, ma al simbolino del termos. Bu. Ah, non lo so, sarà qualche problemino di Twix. È vero? Ah, infatti no, aveva detto che era il quattordicesimo mese, però gliel'ha considerata come nuova. Vabbè. Tu si l'hai preso comunque. Sì, infatti gliel'ha preso. Sì, esatto, a delbo, a posizione di merda. Mi sono ritornato... Eh, niente, guarda, ci avete un po' caricare, quindi boh. Boh, niente, chiudiamo qua, abbiamo fatto una bella... Moshe, Moshe. Ema Manu G. In essenza del quarto è un casino. Eh, è difficile. In essenza del quarto si vuole un casino. Cioè, tutto fa tutto e via. Si serve quello per quello... Già in quattro si è... sono abbastanza pochi per gestire una nave intera. Già quella comunque in quattro è difficile di gestire. Eh sì, è molto difficile. Già in quattro neanche sia proprio il massimo. In sei sarebbe ottimo. Ma anche cinque, già uno in più, già aiuterebbe. Sei forse sono addirittura troppi. In sei sarebbe ottimo qualcosa. Boh, comunque... A domani sera con, non si sa. Boh, vedremo domani cosa fare. Vedremo domani. Buon weekend. Che male. Buon weekend. Ciao belli. Passate un bel fine settimane. Aspetta, rai, chiamo... Sì, c'è Simo, è già partito nel pre-live. Allora, magari sì. Aspetta. Eh, sì. Ok. Quindi, rai, date Simone e scrivetegli... Sì, scrivete... Oh, io voglio bello sto disegno. Vai, scrivetegli cosa questo. In realtà, fatevi bello sto... Talk show. Bello sto talk show. E niente, a domani. Ciao belli. A domani. Ciao belli. Ciao belli. Ciao, ciao.